Giorgia incanta ai Parchi di Nervi, il suo concerto davanti a 3000 persone ha aperto il Festival Internazionale. E ora la musica, ieri sera Genova Nervi, migliaia di persone per il concerto di Giorgia che ha aperto il Festival Internazionale e riacceso i riflettori dopo anni sulle sere di spettacolo ai Parchi. Rita Lucido. La voce di Giorgia spacca le ultime luci sui Parchi di Nervi, le tasche piene di sassi e gli applausi di oltre 3000 persone resteranno le prime intense emozioni del Festival Internazionale. Mentre scende la sera i riflettori sono tutti per la cantante romana, da Genova inizia le tappe all'aperto del tour. Trova una platea gremita davanti al palco da 16 metri in linea con il mare. Di fronte l'abbraccio di Villa Grimal di Fassio e della collina di Sant'Ilario che rendono lo scenario unico. Al centro la voce potente e nitida è una città che accoglie con gioia dopo anni la riapertura dei Parchi e gli spettacoli. Una cosa meravigliosa, un sogno che si avvera. Poi Giorgia, Giorgia numero uno per me. Siamo emozionati, da genovesi siamo emozionati. Finalmente un po' di vita anche a Nervi, no? È bellissimo, sarà contenta anche Giorgia. Andi Giorgia? Sì, sì. Ogni volta che viene a Genova comunque vado a vederla. Mi ricordo anche quando c'era il cinema all'aperto, è sempre stato molto bello. Prima del concerto il saluto di organizzatori e autorità, poi solo tanta musica. Stasera il concerto di Carmen Consoli, poi avanti fino al 20 luglio. Musica, danza, teatro per il cartellone ricchissimo che riaccende le sere dei Parchi. Musica... 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 Musica...